Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Teleitalia. Mario Draghi, retroscena su Mario Draghi, sui consigli dei ministri. Sapete che cos'è il consiglio dei ministri? È una riunione del governo, dove c'è il presidente del consiglio dei ministri, che è Draghi, e i ministri, che sono 18. Poi ci sono i viceministri, i sottosegretari, in totale il governo è formato da 65 persone massimo. È come se fosse il consiglio di amministrazione di un'azienda, dove c'è il presidente o amministratore delegato, e i ministri un po' come se fossero i direttori di divisione, direttore generale vendite, direttore generale del personale, direttore degli stabilimenti, eccetera, eccetera. Mario Draghi si comporta con il suo governo esattamente come in un'azienda. Lui gestisce il governo come in un'azienda, dove dice io sono il presidente, vi ascolto fino a un certo punto, prendo nota fino a un certo punto, se ne ho voglia, delle vostre idee, poi dopo decido io. E se cominciate a divagare, in maniera... basta, dice, basta, lascia perdere, andiamo avanti. Li tratta, Mario Draghi li tratta come se fossero degli impiegati direttivi, come dei dirigenti, ma è lui che comanda, è lui l'amministratore delegato. Lui è come l'amministratore delegato, è stato delegato da Mattarella, di gestire l'azienda, in nome e per conto dei proprietari, qui in nome e per conto per il Presidente della Repubblica. Quando si tratta di prendere decisioni in Consiglio dei Ministri, Mario Draghi non lascerebbe molto spazio ai ministri e preferirebbe invece fare tutto da solo. Questo è quanto rivela una fonte del fatto quotidiano di travaglio. Dice, in una maggioranza così larga come questa, i consigli dei ministri non possono essere vertici in cui si discute davvero come faresti tu, che ne pensi. Pare però che qualcuno gli abbia chiesto più condivisione, ma la risposta da Palazzo Chigi sarebbe stata il governo si preoccupa di governare, le mediazioni le fanno i partiti in Parlamento. Ecco, le mediazioni le fanno i partiti in Parlamento. Nel Consiglio dei Ministri il governo deve governare, cioè lui governa e i ministri, che gli piaccia o no, le decisioni sono del capo. Come riporta sempre il fatto, i partiti sarebbero già esausti sul fronte dei testi da leggere e dai testi di legge che arrivano in via definitiva solo a ridosso dei consigli dei ministri. Un esempio è il decreto sostegni bis, approdato nel pre-consiglio di mercoledì scorso ancora in bozza. Il testo finale dice l'abbiamo avuto solamente a meno di un'ora dal consiglio, ha raccontato un ministro al quotidiano di Travaglio. Il tema sarebbe stato sollevato più volte dal DEM Dario Franceschini, ma anche dal leghista Giancarlo Giorgetti e dai forzisti Gherilini, insomma da tutti. Stando alle fonti però il Premier sarebbe rimasto sempre imperturbabile, cioè manco gli rispondi, dice ma scusi signor Premier ma dottor, dottor, non so come lo chiameranno, dottor Draghi, Cavaliere, eccellenza, come lo chiameranno? Signor Premier scusi ma non ci sarebbe possibilità di condividere quello manco gli rispondi, dice ma avrà sentito? Ma non mi risponde, prova a dirglielo più forte, scusi Premier ma è tutta da ridere no? Pare infatti che durante i consigli dei ministri il Presidente non dica quasi nulla, solo qualche grazie e basta, qualche frase di circostanza, ad esempio certo, 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 sì, sì, certo, 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 sì, ecco, direbbe solo così, certo, grazie e dice così, certo sul decreto Leggi Sostegni c'è stata una cabina di regia politica, ha riconosciuto una fonte di governo, ma sembra che non si riesca a chiedere più di così, nel senso che nella riunione prende la parola il Ministro X e dice e blablabla e Draghi dice grazie, ok, va bene, prossimo, bla 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 bla, grazie, certo, ok, grazie, al prossimo, è quello che vi dicevo prima, ascolta tutti, prende appunti su quello che reputa fa un'opinione, un commento sensato e poi decide da solo come e quando vuole. Secondo voi è giusto? Io preferisco una gestione di questo tipo che ore a non decidere nulla dove tutti vogliono piantare la bandierina del partito, ho vinto io, no, ho vinto io, l'ho detto prima io, come i bambini, no, come i bambini, insomma, preferisco un Draghi che dice ok, grazie, decido io, che i partiti che cercano di mettersi d'accordo, non si mettono d'accordo quando è la stessa, quando hanno vinto le elezioni, queste coalizioni già non trovano accordo, immaginatevi un governo rappresentato da tutti, vabbè, tranne la Meloni, ma da tutti, centrodestra, centrosinistra, centro, sopra, sotto, tutti lì a discutere, no, secondo noi, non permetteremo mai, ma quale, nel senso l'unico modo di gestire una situazione di questo tipo è la gestione aziendale, io sono il presidente, ascolto e decido io, fanno così i manager, le decisioni condivise, lasciamole ai grillini che pensano di fare un collegio direttivo che per alzata di mano decidono, ci vuole sempre una figura di riferimento che ha l'ultima parola, un capo, nelle aziende immaginatevi il caos se tutti, se si decidesse in un consiglio di amministrazione dove tutti dicono la loro e tutti hanno lo stesso peso, non ne esci più, ci vuole idee, infatti si chiama consiglio di amministrazione perché nell'azienda, CDM è consiglio dei ministri, cioè i ministri riuniti in consiglio, in consiglio vuol dire che si scambiano delle opinioni, ma non vuol dire che decidono, si scambiano delle opinioni ma l'autorità decisionale è il capo del governo, almeno io la penso in questo modo, poi ognuno può dire ma no, ma cosa dici? però io credo che Draghi faccia bene a non ascoltare la gran parte dei ministri che sono un po' dei ministri per caso, li abbiamo visti grazie a tutti quanti, buon proseguimento di giornata, ci vediamo tra poco, tra una ventina di minuti per un altro video qui sul canale grazie a tutti e a presto